Ciao a tutti amici di Radio Uci, io sono Giulia e ti do il benvenuto in questo nuovo Focus Previdenza in cui parliamo delle nuove regole anti-Covid previste dal decreto legge riaperture che entreranno in vigore a partire dal prossimo 15 giugno. Il Senato ha infatti da poco dato il via libera definitivo al decreto riaperture che prevede l'allentamento delle misure di contrasto al Covid. Dal 15 giugno cadrà l'obbligo della mascherina su tutti i mezzi di trasporto pubblico locale a lunga percorrenza e nei luoghi a chiuso come cinema, teatri, sale da concerto e palazzetti dello sport. Sempre a partire da questa data la vaccinazione non sarà più obbligatoria per gli insegnanti e personale scolastico, forze dell'ordine e in generale tutti i cittadini dai 50 anni in su. L'obbligo resta invece fino al 31 dicembre 2022 per i professionisti sanitari e per i lavoratori del settore sanitario e socio-sanitario ed assistenziale e per i soggetti che svolgono la propria attività lavorativa nelle strutture residenziali, socio-assistenziali e socio-sanitarie. Per quanto riguarda il Green Pass invece continuerà ad essere necessario solo per le visite in ospedale e RSA fino al 31 dicembre 2022. Inoltre un'ordinanza del Ministro della Salute ha prorogato fino al 31 maggio le misure per chi arriva in Italia o rientra dall'estero. Per viaggiare quindi servirà ancora sia la certificazione verde che il tampone. Prorogata poi dal 30 giugno al 31 agosto 2022 la possibilità per i datori di lavoro privati di ricorrere al lavoro agile in forma semplificata. Infine per i lavoratori fragili pubblici e privati e per i genitori di figli con fragilità il diritto allo smart working è prorogato fino al prossimo 30 giugno. E per ora è tutto, al prossimo Focus.